Muoviamoci! Sì, sì, sì. Corazzato nemico danneggiato! Colpito! Colpito! Bel colpo! Colpito! 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 Veicolo nemico distrutto! Colpito! Colpito! Grazie a tutti. L'abbiamo preso! Hanno colpito le ottiche! Possiamo sparare solo a bersagli vicini! Ottiche riparate! Adesso vediamo meglio! L'abbiamo preso! Bel colpo! Centrato! Mi abbiamo danneggiati! Corazzato nemico danneggiato! L'abbiamo preso! Veicolo nemico distrutto! È rimbalzato! No! 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 E' stato nemico distrutto! Entrato! L'abbiamo preso! Accorazzato nemico danneggiato! Accorazzato nemico danneggiato! L'abbiamo preso! Versaio preso! Preso! Centrato! Bel colpo! Preso! Veicolo nemico distrutto! Veicolo nemico distrutto!